nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita hai quanto a dir qual'era e cosa dura e sta selva selvaggia aspra e forte che nel pensier rinnova la paura tanto è amara che poche più morte ma per trattar del ben che io vi trovai dirò delle altre cose che vi ho scorte è l'attrice monica guerritore che legge la divina commedia ad aprire la cerimonia di inaugurazione del cenotafio di dante alighieri nella chiesa di santa croce a firenze in occasione del dante d all'interno delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del sommo poeta dante racchiude la materia umana il suo spirito la sua grandezza il genio e queste cose le teniamo in piedi noi attori quindi tutta la categoria che fa teatro e perché il teatro è lo spettacolo dal vivo che nella forma perfetta vi riporta la materia umana dei grandi e crea cittadinanza crea coesione sociale crea commozione cioè movimento insieme agli altri il cenotafio di dante è una tomba vuota il poeta è infatti sepolto a ravenna opera dello scultore stefano ricci simbolo della riconciliazione di firenze con il genio che aveva cacciato e costretto all'esilio il monumento voluto dal granduca ferdinando terzo venne inaugurato il 24 marzo del 1830 e realizzato grazie a una sottoscrizione pubblica il sepolcro ha un valore simbolico straordinario il volto pensoso e malinconico di dante sembra scrutare in eterno i fiorentini che lo costrinsero a un esilio dolorosissimo testimoniato dalla terzina della divina commedia in cui il poeta scrive tu proverai siccome sa di sale lo pane altrui e come duro calle lo scendere il salir per l'altrui scale quando voi leggete la divina commedia lui non si farà mai invitare o citare come fiorentino ma sempre come tosco avviene nel decimo canto dell'inferno quando il noto farinata degli uberti si alza sulla tomba e lo chiama dicendo senti la sento la mia parlata gli dice o tosco avviene quando dante parla della sua nascita delle sue origini e lui dice sono nato nel aere tosco l'opera di santa croce per il dante d ha pensato anche ai giovani e ha lanciato la col leggi dante che invita tutti gli italiani e anche gli stranieri a leggere in 33 secondi una terzina dantesca un progetto a cui teniamo moltissimo con l'hashtag leggi dante anche hashtag redmi dante l'invito è a tutti voi perché possiate leggere in 33 secondi le vostre terzine preferite che saranno poi postate sui social dell'opera e questo progetto è fatto in collaborazione con la dante society of america e la new york university e quindi speriamo davvero che assuma una dimensione internazionale e quindi e quindi